Ciao a tutti guerrieri e guerrieri 6, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon, benvenuti in questo video di venerdì 6 dicembre 2019, per me tecnicamente è martedì 3 dicembre, voi lo vedrete il 6. Mi avete visto finalmente il vestito perché ci sono dei video in cui non compaio il vestito, non mi posso fare la barba perché mia sorella ha dimenticato e taglia capelli a casa del fidanzato e quindi mi tocca andare dal barbiere, ora vedremo un po' perché io mi faccio prima con il coso elettrico se non mi è una pelle sensibile eccetera eccetera. Poi stamattina, oggi pomeriggio, non mi fa parlare, sono andato a vedere una cosa vicino a casa, qui, che voi lo scoprirete molto molto più dopo e prendere delle cose per vedere con i miei occhi, che avevo visto solo delle foto, questo oggi non si parla di Sailor Moon o di Anime Manga, di Anime Manga sì ma non di Sailor Moon perché è un video collaborazione, ovvero è la rubrica consigli regali natalizi e quindi è un video collaborativo con gli youtubers, Anime Garden Itta, meglio dire Wex di Anime Garden Itta e Luca Metabrixia. Passiamo con gli shonen, sapete shonen, shoujo, seinen e film o videojohn. Allora questo shonen, oggi mi deve uccidere, questo shonen è famoso negli anni 80 e 90 soprattutto, ma ultimamente è ritornato su Mediaset la mattina e sto parlando del Manga Anime, in questo caso il Manga, Orange Road, Orange Road, penso si pronuncia così, in Mediaset l'ha cambiato come Quasi Magia Johnny. Io di questo Manga Anime non conosco, cioè conosco, l'ho visto, il personaggio più antipatico secondo me da, io, io parlo dal punto di vista di Anime, dell'Anime e è proprio il protagonista, io ora non so come si chiama nel Manga perché non l'ho mai letto, questo triangolo tra quella ragazza che viene chiamata da Mediaset Tinetta quando in realtà non si chiama così e quell'altra che si chiama Madoka in giapponese e Sabrina per Mediaset negli anni 90 e 80, da quello che mi posso ricordare, Sabrina Madoka non voleva all'inizio lui, quindi faceva quella tipa indifferente, può essere che mi sbaglio, poi sono passato anni perché non mi ricordo, non mi ricordo quasi nulla di quell'anime, mi era molto simpatico, cioè mi era simpatico più i genitori di lui, le sorelle e gli altri personaggi secondari, il gatto mi... lui aveva questo dono, ha questo dono di spostare con la telecinesi, gli oggetti eccetera 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 e quindi sono rimasto stupito quando ho visto che era uno shonen. Seconda categoria è lo shoujo, questo shoujo è sempre degli anni 80 e 90, l'anime non è più replicabile perché c'è una questione giudiziaria in mezzo e io sto parlando di Candy Candy, Candy Candy fino al 97 veniva trasmesso l'anime, compresa l'Italia e poi le due, una è la mangaka e un'altra, ora non mi ricordo chi era, l'illustratrice, ora non mi ricordo che cosa è successo, tra la mangaka, quella che ha scritto il manga, che poi negli anni, nel 2014 in due volumi ha fatto una specie Candy Candy Final Story in due volumi, quindi una Candy adulta, Candy Candy era, sapete, un'orfana, cresciuta in una casa, un orfanotrofio nel Nord America, Candy Candy non si sposerà mai con Terence perché in Italia negli anni 80 hanno cambiato il finale, il finale è che Terence si sposerà un'attrice, c'è un'attrice conosciuta sul set di New York, ora non mi ricordo dove, mentre nell'anime italiano, nell'adattamento italiano diceva che lui aveva lasciato lei e quindi lei, Candy finisce che lei nell'anime aspetta lui in, 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 in aspettate, in aspettate, cioè in attesa di lui, scusatemi c'è questa tosse, prendo tutti i medicini ma non fa un tubo, il manga in Italia era uscito in nove volumi dai fratelli Fabri Editori negli anni 80, ora non so che cosa è successo, questa battaglia legale ha portato a non far smettere più perché c'è una seconda persona che afferma di essere lei la creatrice, la mangaka originale, la vera mangaka, dovete sapere che a fine anni 90 questa signora che afferma di essere lei la autrice, senza autorizzazione della vera mangaka, a Hong Kong c'era dei merce, erano usciti dei gadget, e ora non mi ricordo, una, un'art, una mostra, un'art of work, non so dei disegni c'erano dedicati a Candy Candy, se la vera mangaka non veniva a sapere, accadeva questo, ma per fortuna che la vera mangaka ha fermato tutto, e giustamente sono iniziate anche le corte d'appello giapponesi a essere messe in mezzo, allora, io non, io la chiamo vera, la chiamo la vera mangaka, quella che ha disegnato, mi sono documentato, ci sono delle fonti che affermano che lei, la mangaka, quella che ha fatto i disegni del manga, quello dell'anime, non so, l'anime fu trasmesso negli anni 70, quindi siamo sempre nel Giappone negli anni 70, in Italia l'anime arrivò negli anni 80, mia zia, la sorella di mia madre, la più giovane, l'ultima sorella di mia madre, per esempio, mi ha detto che se lo guardava quando era ragazza, Candy Candy, aveva anche una bambola, mia zia, però, però, non voglio, non voglio dilungarmi, andiamo a Seinen, per rivolto a un pubblico adulto, i giorni della sposa, che è un manga con il nome in italiano, sono da 12 volumi, dal 2000-2008 sono ancora in corso sia in Giappone sia in Italia, questa pubblicazione, della casa editrice J-pop, J-pop, non mi fa finire di parlare, la storia è ambientata nel XIX secolo, l'Ottocento, penso, il luogo, l'ambientazione è sul Via della Seta, l'antica strada che facevano i mercanti nel Medioevo, tra Asia e il Mediterraneo, meglio dire, Africa del Nord e Europa, e quindi la storia si concentra su questo luogo, questo luogo geografico e storico molto, molto importante nell'evento della storia medievale, antica, ma anche quella fino all'Ottocento, quindi c'è questa protagonista che si esposa a un mercante, ora non mi ricordo, comunque poi accade qualcosa, e poi basta, accade, io ora non mi ricordo, quindi evito di spollerarvi il manga. Categoria film, anche questa settimana vi faccio due video su due film, allora abbiamo parlato, tu come tu mi vuoi, di Lucia Vaporidis e Cristiana Capotonti, questo venerdì vi dico che il film è notte prima degli esami, quelle ambientate a fine degli anni Ottanta, in cui c'era Cristiana Capotonti, anche lei protagonista. Io sinceramente sono molto legato a quello del 2006, il secondo, però sono molto legato a questo, questo notte prima degli esami 1, molto diverso perché ci fa vedere che eravamo l'Italia e il mondo, non c'era la tecnologia, non c'erano internet, non c'erano i cellulari, e quindi si andava a bussare, i citofani, i campanelli di casa, non c'erano quelle macchine, macchine e cose, motorini tecnologici, c'era la Vespa, poiché c'era più, il telefono a gettoni, io mi ricordo, i telefoni a gettoni, è sempre stato, è come se io ritornassi bambino, il film è andato nell'ottantanove, io infatti ero 4-5 anni, ero molto piccolo, però vedere l'Italia e il mondo dell'epoca così è stato, diciamo, una cosa diversa perché mi ha fatto ricordare tanti ricordi, ma io sono più legato a quella del 2006, come periodo cronologico, però preferisco anche questo di più. I miei social network li trovate nell'info box, da Facebook e c'è tutti i social network, se non un fan si è affidata da Amazon, il mio secondo canale è un youtuber boys, youtuber, se è team da fra un'unità c'è una luka metabdixia, Altatak Shinigami Pig, Z16 Greco, Dere Gusto Quarto, di Buon Fabio, Anime Garden Ito, Otaku Inside, Chiaraccio, Sergio Livorsi, e noi ci vediamo nel prossimo video, che penso sia un video di ottobre, ancora tre video di ottobre e poi partono i video di dicembre. Ciao ragazzi! 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 Grazie a tutti